buongiorno a tutti benvenuti alla conferenza stampa di gubia cesena partiamo subito con le domande vi chiedo di aspettare il microfono buongiorno un giorno mister ben trovato allora sei secondi in classifica sei a quattro punti dalla prima con una partita in meno hai una media partita che se la mantieni vinci il campionato però in giro si sente una sorta di sindrome di insoddisfazione secondo te perché ma non lo so da parte mia no io sono soddisfatto di quello che stanno facendo i ragazzi e la squadra c'è da migliorare e da crescere ma lo dicevo anche quando abbiamo fatto sui vittori consecutive con risultati molto ampi il soddisfatto è normale che devi essere sempre concentrato e sul pezzo perché è un campionato così livellato verso l'alto dove nessuna partita è scontata che devi tenere un'attenzione e concentrazione alta però per il resto sono soddisfatto del lavoro che stanno facendo i ragazzi mister buongiorno buongiorno donati tutto cesena domani si affronterà un gubio che sebbene abbia cambiato tanti giocatori rispetto all'anno scorso ha mantenuto l'identità è d'accordo è un'altra partita impegnativa come la partita con la carrerese dove ho rivisto una squadra presente la nostra e ci vuole ancor più presenza per affrontare il gubio e come la carrerese una squadra di livello alto che ancora forse la sua identità non l'ha trovata bene in modo ben preciso ha delle caratteristiche ben definite come l'anno scorso a volte cambia giocando a 3 giochiamo da 4 giochiamo da 2 davanti a 3 davanti quindi sta cercando di trovare la strada giusta però ha sempre delle qualità le squadre di braia che conosco molto bene che stimo tanto come allenatore ben precise quindi devi essere una squadra ancora più presente di quella che sei stato con la carrerese se vuoi fare una prestazione che ti possa portare a vincere la gara ecco rispetto a lunedì da migliorare che cosa una cosa la dico io provare a segnare di più quando ci sarà l'occasione invece cercando quelle cose parlavamo di cose meno allenabili diciamo no comunque più allenabili a livello mentale che cosa su cosa hai spinto durante la settimana rispetto alle altre partite dove nei momenti in cui ogni partita squadra avversaria per le sue qualità perché in svantaggio ti porta qualche uomo più in avanti ti fa abbassare un promettino devi essere presente la squadra è stata presente perché l'ho vista che voleva portare a casa la vittoria perché è stata concentrata per 95 minuti e quella la cosa più importante poi è normale che insegnare di più oggi siamo la squadra che ha segnato di più io preferirei segnare un pochettino di meno nei numeri ma in quelle situazioni decisive ma essere più decisivo in certe situazioni e sono convinto che lavorandoci la squadra lo dicevo anche la settimana scorsa ci sono state partite che abbiamo vinto abbiamo fatto cinque gol creando sei palle gol la persona crei sei ne fai due non è che puoi fare sempre due gol o tre gol è importante essere presenti essere concentrati essere terminati essere in partita per 95 minuti e saper leggere le situazioni di gara ascolta con la cara resa hai sorpreso parecchio perché insomma hai cambiato 45 elementi che non tutti ci aspettavamo di vedere in campo ai dei dubbi per per domani sera e in secondo ordine spendi come sta spendi si è allenato con continuità negli ultimi due tre giorni è disponibile faremo le operazioni domani per vedere se può essere un giocatore che può partire all'inizio o subentrare ecco riferito anche a altri giocatori altri singoli come stanno varone e piacentini varone e piacentini non sono convocati perché sono arrivati ancora non completamente libri da rischi quindi siccome ci vogliamo prendere dei rischi in questo momento meglio allungare un attimino il loro rientro quindi perché completare donna roma lo rivedremo immagino da titolare perché avrebbe disponibile ok sta bene poi basta se dio vuole no basta se gli altri non sabere squalificate quindi di altre novità ne abbiamo adesso una volta anzi più volte hai detto che alla decima avresti avuto un'idea precisa di quella di come si chiara un po più chiara precisa impossibile averla certo fino alla fine ecco un'idea un po più chiara di questo campionato soprattutto in merito a quelle che stanno deludendo perché insomma almeno tre o quattro che potevano puntare alla testa stanno deludendo ma io sono convinto che la torres ad esempio invece è una sorpresa positiva ma è una conferma non è una sorpresa io credo che lentella rientrerà come ha fatto il perugia la spalla credo ugualmente avrà il tempo anche di rientrare la torres ha dimostrato che il suo valore che anche loro non erano dei marziani possono perdere qualche punto come tutte le altre squadre del del girone il pescara la conosciamo la squadra che giovane di qualità che se in un momento quando dico che i campionati vivono anche di tanti momenti se la becchi nel momento il loro migliore una squadra che ti può dare fastidio magari se la becchi in un momento dove anche la giovane età del loro organico può pagare qualcosa è una squadra che che può affrontare e giocata l'apertamento è una delle più temibili insieme al perugia secondo me a lentella sono le squadre poi alla fine arriveranno lì a giocarsi il salto di galeria ecco abbiamo parlato del gubbio ovviamente la testa su quella partita ci mancherebbe è chiaro che è un mese importante ricco ricchissimo c'è la coppa italia il recupero con lentella io ti chiedo questo visto che il recupero con lentella cade nella settimana delle nazionali diciamo e visto che avete la possibilità eventualmente con tre convocati di rinviare voi come non lo possiamo pensare adesso dobbiamo pensarsi a concentrarci sulla partita di domani poi a quello che sarà dopo la la frequenza di gare gli incontri avvicinati ci penseremo quando sarà il momento oggi è il momento no non c'è una strategia c'è la strategia per domani contro il gubbio grazie a voi